Verrà in aula e sarà pronto a rispondere a tutte le domande anche per onorare la memoria di Giulia. Questo quanto aveva dichiarato l'avvocato Giovanni Caruso, difensore di Filippo Turetta, al termine della prima udienza lo scorso 23 settembre davanti alla Corte d'Assise di Venezia presieduta dal giudice Stefano Manduzio. Il 22enne di Torreglia, reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Giulia Cecchettin, quel giorno non era presente in aula ma ci sarà il 25 e 28 ottobre per l'esame dell'imputato come richiesto sia da parte della difesa che dal PM. Poi si tornerà in aula il 25 e 26 novembre per la discussione delle parti e il 3 dicembre dovrebbe essere l'ultima data per le possibili repliche e la sentenza. I giudici della Corte hanno accolto l'accordo delle parti, ossia l'acquisizione del fascicolo del PM e la richiesta di esame dall'imputato, dando così il consenso al processo Lampo. Il PM Petroni ha deciso di fare a meno della lista dei testimoni, mentre l'avvocato di Turetta ha rinunciato all'esame della consulente medico legale. Il 22enne rischia l'ergastolo. In aula ci sarà Gino Cecchettin, il papà di Giulia, presente anche alla prima udienza al termine della quale ancora non aveva deciso se avrebbe presenziato o meno all'interrogatorio. I due si vedranno faccia a faccia per la prima volta dall'omicidio di Giulia avvenuto lo scorso novembre nel parcheggio di Fossò. Il padre della ragazza ha sempre dichiarato di aver piena fiducia nelle istituzioni. Io non mi auguro nessun tipo di vendetta, nessun tipo di trattamento di favore, quello che è previsto dalla legge e sono sicuro che la giuria, i giudici sapranno giudicare con correttezza. Quello che è successo lo sappiamo tutti, rinnova il mio dolore perché sentire costantemente quanto è successo è rinnovare il mio dolore ma ho piena fiducia nelle istituzioni. I legali della famiglia Cecchettina hanno chiesto un risarcimento di due milioni di euro. L'udienza di venerdì 25 inizierà alle 9 e 30, dalle 10 ci sarà una diretta straordinaria su Antenna 3 con ospiti in studio e collegamenti dal Tribunale di Venezia con i nostri inviati sul posto.